Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. E' stato arrestato ad Amsterdam Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, latitante da luglio 2011. Ascoltiamo i particolari nel servizio. E' stato arrestato ad Amsterdam Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, 5 frondi, latitante da luglio 2011, quando evase dai domiciliari. Bonarrigo, ritenuto elemento di spicco della cosca Bellocco, operante nel Reggino e con ramificazioni in Italia e all'estero, è accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. L'uomo è stato arrestato dalla polizia olandese insieme ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Destinatario di mandato di arresto europeo da luglio 2011, era ricercato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Reggio Calabria, su richiesta della DDA Regina. Per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Inoltre, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura di Palmi, dovendo scontare due anni e 19 giorni di reclusione, per reati in materia di armi e ricettazione. Fondamentale ai fini dell'individuazione dell'attitante, si è rivelata l'attività di ricerca che la polizia olandese ha avviato su input dei carabinieri di Reggio, sotto la direzione della DDA. In particolare, dalla collaborazione tra i carabinieri e la polizia olandese e dall'opera di raccordo, ininterrottamente assicurata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, lo SHIP, è emesso che l'attitante sotto false generalità era solito muoversi in vari paesi della comunità europea, tra cui prevalentemente l'Olanda. Nella mattinata del 6 settembre scorso, in un quartiere centrale della capitale olandese, è stata individuata l'area dove Bonarrigo aveva trovato rifugio. I servizi di osservazione, andati avanti sino al giorno dopo, hanno consentito poi di bloccare in strada il ricercato. All'operazione hanno partecipato i carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Reggio e quelli del neocostituito gruppo di Gioia Tauro, presenti in ogni fase, sia per l'individuazione e sia per il riconoscimento immediato di Bonarrigo. I carabinieri forestali della stazione di Corigliano Calabro hanno sequestrato l'area dell'ex campo sportivo, dove al suo interno sono depositati rifiuti urbani senza alcuna autorizzazione. Gestione illecita di rifiuti e stoccaggio non autorizzato in area vincolata. Sono i reati contestati ad una ditta che usava da diverso tempo l'ex campo sportivo di calcio di Villa Piana, in provincia di Cosenza, come stoccaggio di rifiuti. Dal controllo dei militari della stazione Carabinieri forestale di Corigliano è emerso che l'area in disuso da diversi anni situata in località San Francesco di proprietà del comune di Villa Piana veniva usata per depositare una grossa mole di rifiuti eterogeni abbandonati sul suolo, principalmente resti di potature vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini privati, in piccola parte già sottoposti a cippatura, misti a sacchetti in plastica, alcuni dei quali contenenti residui vegetali, e alcuni ingombranti quali materassi, sedi e tavoli, bottiglie di vetro e plastica e tronchi depezzati di palme. Questo abbandono ha comportato inevitabilmente la creazione di uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti principalmente classificabili in urbani non pericolosi con relativo pericolo di inquinamento, degrado e alterazione del sito sottoposto a tutela ambientale e idrogeologica che ha una destinazione urbanistica sportiva e attrezzata molto diversa da quella attualmente in uso. Tra le altre cose, lo stato secco dell'enorme massa di rifiuti vegetali rinvenuti fra misti a plastica costituisce anche un combustibile altamente infiammabile. Pertanto si è proceduto al sequestro dell'area al deferimento dell'amministratore della ditta che dovrà ora smaltire il materiale rinvenuto nel rispetto della normativa. Il piccolo sisse bimbo di 5 anni sbarcato senza genitori nel porto di Corigliano potrà presto riabbracciare la sua mamma. Una storia a lieto fine iniziata certamente nel peggioro dei modi ma finita ora decisamente bene. Il piccolo sisse bambino di 5 anni sbarcato nel porto di Corigliano senza genitori dopo aver ritrovato il padre a breve riabbracerà anche sua madre. Dai viaggi della speranza fino al ricongiuggimento del nucleo familiare la vicenda è stata abbastanza complessa ma grazie al lavoro delle istituzioni e in particolare del leader del movimento diritti civili Franco Corbelli il lieto fine è arrivato. In un primo momento infatti era stato rintracciato il padre del bimbo che viveva in Francia mentre la mamma era rimasta prigioniera in Libia. Il clamore mediatico probabilmente ha convinto i rapitori a liberare la donna che ha potuto così raggiungere la costa d'Avorio e a breve tornerà in Italia dove potrà finalmente riabbracciare il figlio da cui era stata separata. La Regione Calabria impegna 13 milioni e mezzo di euro risorse del POR Calabria per la realizzazione di percorsi di tirocinio extracurriculari anche in mobilità geografica rivolti a soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. Un'azione concreta di contrasto alla crisi economica spiega una nota e alle difficoltà di inserimento occupazionali dei giovani calabresi. Nell'ambito del programma nazionale ovviamente garanzia giovani. La misura nel suo complesso intende agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nelle transizioni tra scuola e lavoro. E cambiamo argomento. Sono tante le infrazioni commesse dagli automobilisti cosentini. Molte di queste, oltre a mettere a repentaglio la vita degli altri, spesso e volentieri sono la causa della congestione nel traffico cittadino. Cosenza congestionata dal traffico è un argomento ormai ricorrente nella città di Abruzzi, soprattutto dopo le recenti chiusure alle auto di alcune strade del centro cittadino disposte dall'amministrazione comunale. Un provvedimento che rientra in quel progetto, tanto caro al sindaco della cittadina Abruzzi, di pedonalizzare il cuore della città. Ma a quanto pare il cambiamento dei sensi di circolazione e le interdizioni al traffico di alcune vie cittadine stanno dando ragione all'amministrazione comunale. Infatti, laddove si è intervenuti, almeno in questi primi giorni, il traffico sembrerebbe essere scorrevole. Il problema è che molti cosentini non vogliono accettare la mancanza di disciplina alla guida delle loro auto. Una questione vecchia e risaputa e che forse è una consuetudine comune che appartiene non solo agli automobilisti bruzzi. Infatti, come spesso capita, anche per fare 100 metri si usa a prendere la macchina e per fare la spesa si pretende di trovare parcheggio quasi dentro al supermercato. Ma le violazioni commesse al volante sono tante e a volte mettono anche a repentaglio la incolumità degli altri automobilisti, oltre che la propria, come nel caso della centralissima piazza Zumbini. In questa zona le violazioni commesse durante la giornata sono numerosissime, come testimoniano le immagini e quelle più frequenti avvengono intorno alla rotatoria. al centro della piazza. Un'altra zona diventata ormai teatro di infrazioni stradali è la traversa che collega Corsofera a Piazza Bilotti. Questa bretella dovrebbe essere percorsa solo per entrare nel parcheggio sotterraneo e invece in molti la attraversano in un senso o in un altro come strada di collegamento tra le due vie. Infrazioni e violazioni che si verificano quotidianamente e che contribuiscono senza alcun dubbio all'intasamento del traffico per le vie della città, perché laddove si guida, rispettando le segnaletiche stradali, il transito delle automobili avviene in modo fluido e regolare. Una mostra ospitata al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria racconta la storia greca delle due città dello stretto, Zangle e Region. Reggio e Messina, due antiche polisse greche sulle sponde dello stretto, tornano ad unirsi a distanze di 2.700 anni. L'occasione è data dalla mostra Zangle e Region, ospitata al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria che raccoglie per la prima volta in un'unica esposizione 300 reperti delle due città di epoca magno-greca, molti dei quali legati allo stile calcidese, regione greca dalla quale partirono i coloni che fondarono le due città. Si tratta di un lungo percorso archeologico comune all'interno del quale si rivivono momenti di esaltazione storica quando le due città dominavano lo stretto, condizionando tutto il traffico navale antico, condividendo le fasi più significative della magnificenza del periodo d'oro delle polisse greche in occidente. La mostra Zangle e Region resterà visibile fino al 31 gennaio 2018 e sancisce anche una rinnovata sinergia tra i rispettivi musei archeologici. Racconta una storia straordinaria, racconta la storia dello stretto che era una rotta obbligata, un passaggio obbligato e che rappresentava la porta verso il terreno, la porta verso quei mercati, quelle colonie della Campania, ma anche del centro Italia e poi della ricchissima Etruria. Quindi quando i calcidesi, alla fine dell'VIII secolo a.C., decisero di fondare prima Zangle e poi Region, lo fecero con una grande lungimiranza, con una grande strategia, perché sapevano che i commerci in un modo o nell'altro attraverso lo stretto dovevano passare. Alla mezza terme nel fine settimana si terrà un torneo di volley. La grande pallavolo nuovamente protagonista al Palace Party di la mezza terme con la seconda edizione del torneo Chapeau, a cui sarà abbinato il Memorial, intitolato all'avvocato Francesco Pagliuso, amante della pallavolo, barbaramente assassinato un anno fa. A partecipare al torneo squadre di primissima fascia, tre di Superlega, la Taiwan Latina, la Tonno Calipo Calabria Vibo Valencia e la BCC Castellana ed una della Serie A tedesca e i Bison Bull. Si partirà sabato 23 settembre con la prima semifinale in programma alle 17 tra Vibo e Castellana, a seguire l'altra semifinale fra Latina e i tedeschi della Bison Bull. Domenica le finali, terzo quarto posto alle ore 16 e a seguire primo e secondo posto. Tra le due finali prevista la consegna di alcuni riconoscimenti a personaggi del volley nazionale e locale. Fra questi, targa speciale per il giornalista Lorenzo Dallari, voce storica della pallavolo italiana e per il palleggiatore, oggi in forza latina ma ex anche di Vibo e della nazionale, Daniele Sottile. La manifestazione, organizzata dal team di Volley Channel, a canale televisivo tematico interamente dedicato al volley, in collaborazione con il consorzio Volley Insieme, si pone anche uno scopo benefico. L'intero incasso della due giorni, non è previsto un biglietto da pagare ma un'offerta libera da lasciare all'ingresso sarà devoluto all'Associazione di Auto e Mutuo Aiuto il Girasole, formata da ragazzi con disabilità gravi e dai loro genitori. E anche per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 20.45 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.